. Nelle prossime puntate della SOP, Diego e suo fratello avranno un confronto chiarificatore, il Giordano troverà anche lavoro. Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata SOP Partinopea Un posto al sole. In questo ultimo periodo le trame della SOP hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori desiderosi di conoscere l'identità dell'assassino di Veronica Viscardi che per molto tempo ha destato parecchia curiosità tra i seguaci affezionati. Una volta svelato il volto dell'autore del delitto, Vera Viscardi, i telespettatori sono stati catapultati in un altro dilemma, il ritorno di Diego e l'influenza che questo avrà sul riprovato rapporto tra Rossella e Patrizia. Il ritorno di Diego Giordano. Nelle recenti puntate andate in onda abbiamo assistito con gioia al rientro a casa del maggiore dei Giordani, Diego, dopo la sua prolungata permanenza a Milano in seguito alla difficile operazione subita al cuore. Il ragazzo lasciò Napoli non solo per cercare un nuovo lavoro come ha fatto credere a tutti ma soprattutto per spezzare il crescente legame che lo stava unendo sempre di più a Rossella, la ragazza di suo fratello Patrizio. Diego ha fatto rientro a Palazzo Palladini proprio nel momento in cui la bella Graziana, delusa dal suo prolungato silenzio, ha accettato di fare una vacanza con Patrizio. La notizia del suo ritorno ha preoccupato parecchio il minore dei Giordano che, sotto consiglio di suo padre, ha deciso di non rivelare nulla a Rossella per non rovinare il loro neonato riavvicinamento. Alla notizia del riavvicinamento della coppia Diego è apparso deluso e meravigliato confermando così il pensiero di Raffaele convinto da sempre che i suoi sentimenti nei confronti della ragazza erano troppo forti. Nelle prossime puntate vedremo Patrizio al ritorno dalla vacanza con la sua Rossella che avrà un duro confronto con suo fratello al termine del quale però si convincerà che la sua presenza non rappresenta più un ostacolo per la crescita e il proseguimento della sua rimata relazione. Non tutto però andrà come previsto, ci sarà infatti una svolta imprevista. Francesco Vitiello rientrato nella SOP non avrà a che fare solo con la storia Patrizio Rossella, ma ci saranno anche altre importanti novità che lo riguarderanno e che lo tratterranno ancora per molto a Palazzo Palladino. Troverà un nuovo impiego e si renderà protagonista di nuove dinamiche che lo coinvolgeranno in prima persona. Non resta quindi che seguire con attenzione le prossime puntate per scoprire quale sarà il destino di questo personaggio tanto amato dal pubblico. Grazie a tutti.